Continua a crescere in Sicilia il numero dei docenti in uscita dalla scuola. Nell'ultimo anno le richieste di pensionamento sono infatti aumentate in modo esponenziale rispetto all'anno precedente, arrivando a quota 57%. Una percentuale che sicuramente esprime un disagio di maestri e professori da anni impegnati nel settore dell'insegnamento, ma che rappresenta anche una buona notizia per tutti coloro che aspirano alle emissioni in ruolo o a rientrare nell'isola dalle regioni del Nord Italia. Le cattedre lasciate libere verranno infatti rimpiazzate dai nuovi assunti o da coloro che negli ultimi anni hanno richiesto l'avvicinamento a casa. Per poter andare in pensione, già dal 1 settembre del 2018, era possibile presentare la domanda entro il 20 dicembre 2017. È stato a seguito della presentazione delle domande che il Ministero dell'Istruzione ha parlato di quella in atto in Sicilia come di una fuga dalle cattedre. Decisamente più contenuto, l'incremento delle richieste di pensionamento su scala nazionale, che è appena del 26%. Secondo i sindacati, alla base di questo fenomeno ci sarebbe un sovraccarico di stress. Francesca Bellia, a capo della CISL Scuola Sicilia, ha infatti affermato che stress e mole di lavoro che si è incrementata a dismisura fanno sì che gli insegnanti, se la norma lo consente, vanno via con piacere dalla scuola. I 2.367 pensionamenti richiesti dagli insegnanti in servizio nell'isola rappresentano una buona base di partenza per nuove assunzioni e trasferimenti, ma descrivono allo stesso tempo un quadro piuttosto preoccupante delle condizioni di lavoro di maestre e professori anziani costretti a rimanere in cattedra fino a 67 anni. Dei numeri emersi, il lavoro più faticoso sembra essere quello svolto dagli insegnanti nella scuola materna ed elementare. Per le scuole elementari l'incremento delle richieste di pensionamento è stato del 68%, mentre nella scuola primaria si registra un incremento da record, più 89% rispetto al 2017.